Eccoci qui, siamo ritornati in questa splendida domenica di fine novembre per andare a trovare un caro amico, uno che tuttora vorremmo definire come protagonista della politica italiana, ma non sappiamo se è il caso, vedremo più avanti. Sì, sì, grazie, sto bene, non ti preoccupare, sì, sì, no, non ti preoccupare, c'è qui la Pasquale che mi dà lei il brodino, no, tranquillo, grazie, no, la stanza è carina, grazie, grazie. Presidente, buongiorno, buona domenica, siamo noi di attento a più due, presidente, che vuole? Ormai i giorni mi sembrano tutti uguali. Ma non dica così, su. Dudu, cosa fai in ospedale? Hanno fatto entrare anche il cane? Anche il cane? Ah, non lo sapevo. Beh, forse magari nel suo caso hanno avuto un occhio di riguardo per Dudu. Non dica quella parola. Scusi, è un po' come parlare di corda a casa dell'impiccato. Lei dice occhio e... Come va, come va l'uveite? È una, purtroppo, una forma cronica di uveite. Eh già. Eh sì, ho bevuto troppo vino. E quindi mi è venuta l'uveite. Ma mi piace che ne sappia ridere. Questa battuta è terribile. Ma no, in fondo sì, ha avuto di meglio come battute, però nel momento va bene anche questa, no? Eh vabbè, comunque passerà anche questa, spero. Ma certo, poi ho sentito che lei ha una rinnovata attività, insomma, sta cercando di ricompattare le fide del partito, della coalizione. Ho avuto degli incontri positivi prima di essere ricoverato in ospedale. Eh vabbè, tanto è solo un dei hospital, non pianga che dopo con l'uvite è peggio. Ah, questo è vero. Eh beh sì. Allora, con l'uvite anche quando non piangi sembra che stai piangendo. Eh, è vero, è vero. Che cosa patetica. È una malattia commovente. E quindi ho avuto un incontro, ho fatto un incontro con tutti i maggiori rappresentanti e ci siamo ricompattati per dar vita a questa nuova entità politica di centro-destra che sarà il rinnovamento in Italia. E si chiamerà? Forza Italia. È una cosetta, già un ritorno al passato. Forza Italia 2, forse. A punto zero oppure due e basta? Due e basta. Forza Italia 2. Due barrato, forse. Forza Italia 2 e saremo l'espressione del vero centro-destra in Italia. Abbiamo già un programma politico e in questi mesi ho avuto molto da riflettere. Lei sa che vado a fare del volontariato. Eh beh certo, ogni giovedì, venerdì? Ogni giovedì faccio un'ora scarsa, sono 45 minuti come a scuola. L'ora di 45 minuti. Esattamente. C'è un quarto d'ora per la pizzetta, la sigaretta. È chiaro, poi c'è la ricreazione e vado via. È giusto, è giusto. E quindi dicevo faccio questo volontariato, questo centro per anziani, dove ci sono persone sfortunate, capito, che hanno una certa età, non giovani come me. Eh lo so, lo so. E quindi ho capito qual è la cosa importante per l'Italia. E qual è, ci sveli. E quindi quando andrò al governo, io mi impegno e lo dico qui davanti a tutti gli italiani. Quello dice e quello nega, sì. Quello dico e quello nego in questo nosocomio, mi piaceva tanto dire questa parola qui, nosocomio. Nel locale nosocomio. Non si sa perché, normalmente un ospedale, quando va in televisione, diventa un nosocomio. Improvvisamente diventa, eh così, viene... Un misterio. E viene promosso a nosocomio. Dicevo, faremo dentiere gratis per tutti. Addirittura. Cinema, no per tutti, scusi, per gli anziani. Ah, per gli anziani. Cinema, sempre per gli anziani. Sì? Gratis. Gratis. Treni. Con i pulmini per portarceli al cinema. No, ci posso andare o in treno o in tassi, perché anche il tassi sarà gratis per gli anziani. Qui i tassisti hanno detto che non sono tanto d'accordo, ma a me non frega niente, io farò questa cosa perché io lotto per il bene del paese. Hai ricominciato la musichetta? Eh sì, si è ricominciato la musichetta. Allora era diventato triste, stavo riprendendo un attimo. Il bene del paese è anziano, perché il paese è giovane. Questo non è un paese per giovani, oramai lo sanno tutti. E quindi è giusto che la politica si adegui a tutto ciò. E quindi giusto, bisogna avere un occhio di riguardo secondo lei per l'anziano. Quindi faremo questo, sto recuperando fortemente come popolarità nei confronti di Renzi, oramai non sono più nessuno, non vuole vedere più nessuno, anche perché Renzi, parliamoci chiaro, fa troppe dichiarazioni e pochi fatti. Oh, quindi solo fumo e niente arrosto. Esattamente, invece si sa che io sono più per l'arrosto, mi piace più la carne. Lei piace più la carne, soprattutto se so da giovane... La devo lasciare, ma beh sì, la bella carne è chiaro, deve essere compatta, la devo lasciare perché c'è l'infermiera che mi deve cambiare il catetere. Ah sì, lo vedete, ha anche questi problemi. Eh assolutamente sì. Va bene. Dai buono Dudù. L'aspettiamo quindi nel lagone politico con rinnovata energia, presidente. Assolutamente sì, la saluto e buona domenica a tutti. Buona domenica, mi saluti da Pascale e Dudù.